Sviluppo e innovazione delle filiere dei sistemi produttivi locali, promozione dei prodotti agroalimentari tipici della provincia di Sondrio, turismo sostenibile, inclusione sociale di gruppi svantaggiati. Questi principali ambiti di intervento entro i quali il Gal Valtellina si propone di operare e concretizzare iniziative. In dettaglio la montare di risorse disponibili è per un totale di 2 milioni 130 mila euro. L'importante momento di confronto è l'Assemblea Annuale dei Soci del Gal Valtellina, Valle dei Sapori. Il gruppo di azione locale è uno strumento promosso da Unione Europea con il compito di gestire e utilizzare al meglio i finanziamenti che l'Europa fornisce alle comunità rurali e di distribuirli nel modo più proficuo possibile per lo sviluppo socio-economico del territorio. L'Assemblea è stata inoltre occasione di monitoraggio del piano di sviluppo locale 2014-2020, il quale ha registrato un notevole successo con oltre 120 domande pervenute e 6 milioni di euro impiegati. Grande interesse anche per il progetto di cooperazione Orobaicheando che si è concluso nella migliore dei modi fornendo speranze concrete per il futuro. Per quanto riguarda l'attività attualmente in essere, il Gal Valtellina ha affidato l'incarico di realizzazione e delle azioni locali del progetto Climactive 2050 alla Fondazione Foianini, che si occuperà dell'analisi e dello studio del cambiamento climatico sul territorio e le conseguenti azioni per mitigarne l'impatto. Mentre per il progetto P-Art, una pietra sopra l'altra, il Gal realizzerà a novembre 2022, in collaborazione con Fondazione Provinia, PFP Valtellina, Comune di Sernio e Progetto Interreg con Valore, un corso introduttivo di formazione per la costruzione di muri in pietra secco.